Quindi più potente Perché non mettono le maniglie per il passo zero nella Panda? Perché sono? Sì, perché una maniglia, una singola maniglia non costa nulla ma produrla in serie aumenta il costo di tantissimo e se devi guadagnare, rendere una macchina economica, tagli su tutte queste stronzatine per poter guadagnare di più Ti piace come risposta? Sì È abbastanza esaustiva, devo dire Sì, devo pensare a una motivazione molto più stupida Tipo, se ne erano dimenticati Se è possibile Riacchiappo Fatmappo E vediamo insieme E chi è Riacchiappo? Fatmappo E chi è Fatmappo? Fatmappo è l'app delle montagne E perché si chiama Fatma? Ma Fatta ha scritto tipo grasso Fatta ha scritto una roba come grasso Paro paro No, non siamo a magrasso È buona? Sì 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 E loro devono essere pagati e nel loro interesse capirci E allora nello spagliamento Ho fatto tanto amico Ho fatto ma... Ho fatto ma... Lo devo sentire mi domani E io Ti sei mai più domani Siamo Le serci Lo Le serci C'è un sacco. Vabbè carina ma un po' una bomboniera Guarda che potrebbe essere, secondo me, una bomboniera sicurissima Se non è una città in un bel era, perché ha la forma della città in un bel era Ci ho pensato pure io, però sono due enormi cimiliere Vogliamo stuccarlo? Ah no, poi la Francia ce l'ha visto in Italia Ma ce ne avrà varie Dai, non ci vogliamo fermare, guardate che cattedrale è bella Ma ci farà dormire lo stesso Che è l'ecco il cazzo? Ci sono le associazioni di quartiere che puliscono il quartiere Si prendono pure le nubelle o iole del quartiere Ci mancherebbe, dovrebbe lasciare i piedi che l'ho fatta passare Guarda che carina Andiamo qua Il palazzo dei luci e degli dei Le leggi qua delle proporzioni Guarda quanto spetta Va bene, va bene No, no, è un pastoso Qua c'è l'uomo qua? No, è un pastoso C'è l'uomo qua? No, non è un normale Il tetto gusto è diverso È un'esperienza più grande C'è una cosa tipo una cittadina piccolina di Borgo però con la vita È grande poi C'è noi abbiamo visto questa parte Se tu guardi tutto il max è... Vabbè, è grande Sì, guarda Sì, guarda Sì, guarda Sì, guarda Sì, guarda Sì, guarda Viva la la Le linee sono un po' grandi perché stava sputando in chiostra. Non mi piace ed è stato un po' più bassi! Oh Bevi, bevi, che ti fa bene Inizia piano piano Oh che carina Oh Oh Vabbè, poi lo puliremo bene. Io non capisco perché non mi piace la questione del Gineceo. Ma non è che non ci piace, è che è un desidero, cioè... Renni ti conto dell'inattuabilità della tua cosa. Oltre che è inattuabilità. Beh, vabbè, è certo. È un desidero di ripidine cura. Io ci metto quando ci siamo fermati dal cinese. Di la scena dal cinese. Quella è questa, una bella mia. Sì. Perché eravamo... Cioè, è stato quello un lusso che ho avuto veramente piacere a conoscerti. Era giusto perché abbiamo faticato. È stata una buona cena. Un po' inaspettato. Inaspettata completamente. Cioè, me ne sono alzato veramente felice. Comunque, secondo me, in generale, un po' questo viaggio è stato governato dall'inaspettatezza. Cioè, era quello un po' il senso del viaggio e ha funzionato. Totalmente. È stata una formula funzionante, sì. Mary. Ma allora, io ho apprezzato moltissimo, cioè moltissimo, molto l'incontro col bambino l'altro ieri, che mi ha fatto ridere, non so perché. Il bambino malfamato. Il bambino malfamato. Sì, il bambino malfamato. Perché... Perché mi stavo cagando sotto io. Cioè, voi non avete dato solo in quella condizione fisica pessima? Ho detto, se succede qualcosa io non posso dargli niente. Cioè, muoio. Mi uccide con una lattina. Mi uccide con una lattina. Invece Michele gli ha ruttato in faccia. Michele, secondo te sarà il momento più alto della tua esistenza. Ma non lo so. Di rispondere al bambino malfamato con un rutto. Con un rutto. Che ti aveva appena minacciato quella mattina. Ma in verità è stato un po' un progredire di cose. Perché all'inizio lui ha fatto così. E poi io ho risposto come se mi avesse sbuzzato. Però mi è uscito male e lui mi ha ruttato. Eh, lui ti ha ruttato. E quindi ho detto, vabbè, allora è il momento di fare la ghera di rutti. Geniale. Va bene. Bel viaggio. Bel viaggio. A me. Mi mettiamo la musica.